Come possiamo creare un mondo il più equo possibile? Uno dei tanti sogni dell'umanità è quello di creare un mondo in cui le cose siano il più possibile giuste e in cui il maggior numero possibile di persone possa condurre una vita buona e soddisfacente. Ma quando si pensa ai principali problemi del nostro tempo, è difficile dire subito quali siano i problemi veramente gravi. Tuttavia, esiste un termine generico per questo, ovvero gli obiettivi di sviluppo sostenibile, definiti dalle Nazioni Unite per il periodo fino al 2030. Si tratta di 17 obiettivi e 169 sotto obiettivi che descrivono i maggiori problemi che l'umanità deve affrontare a livello mondiale. I 17 obiettivi principali sono i seguenti. 1. Nessuna povertà. 2. Niente fame. 3. Salute e benessere. 4. Istruzione di qualità. 5. Uguaglianza di genere. 6. Acqua pulita e servizi igienici. 7. Energia pulita e accessibile. 8. Lavoro dignitoso e crescita economica. 9. Industria, innovazione e infrastrutture. 10. Meno disuguaglianze. 11. Città e comunità sostenibili. 12. Consumo e produzione sostenibili. 13. Misure di protezione del clima. 14. Vita sott'acqua. 15. Vita sulla terraferma. 16. Pace, giustizia e istituzioni forti. 17. Partenariati per il raggiungimento degli obiettivi. Se volete capire questi obiettivi in modo più dettagliato, basta cercare su Google obiettivi di sviluppo sostenibile. La domanda importante che sorge ora è, cosa bisogna fare per raggiungere tutti questi obiettivi, idealmente entro il 2030? La leva più importante per il raggiungimento di questi obiettivi sono le leggi, che sono effettivamente monitorate in tutto il mondo e la cui inosservanza comporta multe talmente elevate che non è finanziariamente conveniente per nessuno infrangere queste leggi. Il problema, tuttavia, è che bisognerebbe stabilire una legge di base globale sussidiaria basata sui diritti umani, a cui tutti gli stati del mondo dovrebbero aderire, in modo che nessuno stato possa trarre un vantaggio finanziario attraverso delle scappatoie. Perché il problema è che più leggi sensate si stabiliscono in un paese, più spesso sono costose. Se altri paesi non introducono queste leggi, hanno un vantaggio competitivo. Ora vi mostrerò tre esempi di leggi di questo tipo, in modo che possiate visualizzare meglio questo aspetto. Esempio 1. Leggi globali sul clima sussidiarie. Ogni anno si tiene una conferenza mondiale sul clima in cui si discute dei problemi e si negoziano obiettivi e misure chiare. Il problema è che questi obiettivi non vengono trasformati in leggi vincolanti, il che significa che molti paesi non li rispettano e ne traggono molti vantaggi economici. Sarebbe importante adottare una legislazione sussidiaria molto chiara e vincolante a livello globale sulla protezione del clima, a cui tutti i paesi dovrebbero aderire. Esempio 2. Salario minimo globale sussidiario. In molti paesi del mondo, molti miliardi di persone sono mal retribuite e possono vivere solo in modo molto povero con il loro lavoro manuale. Questo comporta un numero enorme di problemi sociali, come malattie fisiche e mentali, movimenti di rifugiati, guerre, ecc. Si pone ora la domanda. Come si può introdurre un salario minimo ragionevole in tutti i paesi del mondo? Ciò richiederebbe una legge globale che stabilisca che il salario minimo debba essere basato sul reddito medio della popolazione del rispettivo paese, orientato al 70% di questo reddito medio e poi ridefinito automaticamente una volta all'anno. In questo modo si otterrebbe automaticamente un salario minimo ragionevole in tutti i paesi del mondo. Inoltre, si dovrebbero stabilire leggi a livello globale per garantire che il nuovo salario minimo non comporti un aumento superiore alla media dei costi della vita quotidiana, come l'affitto dell'abitazione, i costi energetici, il cibo, ecc. Inoltre, l'obiettivo di ogni Stato dovrebbe essere quello di far sì che ogni persona abbia la possibilità concreta di risparmiare il 20% del proprio guadagno mensile. A lungo termine, questo definirebbe automaticamente salari minimi ragionevoli in tutto il mondo ogni anno, migliorando sistematicamente il bene comune globale e impedendo l'aumento del divario tra ricchi e poveri. Esempio 3. Imposte sulle filiali a livello mondiale. In ogni paese esistono sistemi fiscali e leggi fiscali individuali. Di conseguenza, esiste una concorrenza fiscale globale e le grandi aziende, in particolare, ne traggono enormi vantaggi e spesso riescono a non pagare tasse o a pagarne pochissime. In un contesto globale, ciò si riflette nel fatto che la popolazione attiva paga la percentuale più alta di tasse e più un'azienda diventa grande e, soprattutto, opera a livello internazionale, meno tasse paga di solito, poiché trova molte opportunità per utilizzare le strutture fiscali. In questo caso sarebbe importante fissare delle linee guida globali, indipendentemente dalle imposte in questione, che non devono essere inferiori in termini percentuali. Se venissero fissate aliquote minime per tutti i paesi del mondo per tutte le aliquote fiscali, si porrebbe un chiaro limite alla concorrenza fiscale al ribasso e questi fondi potrebbero essere utilizzati per promuovere il bene comune globale in modo molto migliore in tutto il mondo e, soprattutto, si garantirebbe che ogni paese del mondo abbia un gettito fiscale sufficiente per agire come Stato sociale nella misura necessaria. Tutto sommato, potremmo fare un numero enorme di esempi di quali leggi potrebbero essere scritte su quali argomenti in una Costituzione sussidiaria globale, ma ciò andrebbe oltre lo scopo di questo video. L'importante è che, per come sono stati definiti i diritti umani, la comunità globale farebbe bene a redigere una legge fondamentale globale il più ampia possibile basata sui diritti umani, definendo così standard minimi sempre più sensati a livello mondiale e raggiungendoli il prima possibile. Purtroppo, il problema attuale è che non esiste un'istituzione in cui tali leggi possano essere approvate. In sostanza, esistono solo le Nazioni Unite, ma non sono autorizzate ad approvare leggi globali di questo tipo. Quello che molti non sanno, perché purtroppo non viene insegnato nelle lezioni di storia a scuola, è che dall'antichità a oggi, in ogni epoca, un gran numero di persone si è espresso a favore di un Parlamento mondiale democratico e globale. Tra questi, ad esempio, Diogene di Sinope, Thomas Paine, David Hume, Voltaire, Gotthold Efraim Lessing, Christophe Martin Willand, Friedrich Schiller, Immanuel Kant, Moandas Gandhi, Johar Harlal Nehru, Frank Wekind, Gera Rauman, Albert Einstein, Albert Camus, Papa Francesco, Ernest Bevin, Thomas Mann, William Fulbright, Rosy Cash Wimmer, Lola Maverick Lloyd, Gerald Ford, Friedrich von Hayek, Samir Amin, Jürgen Habermas e molti altri intellettuali, politici, scienziati, premi Nobel, ecc. Poiché molti temono che un Parlamento mondiale democratico porti alla sorveglianza totale del mondo intero, fino alla sfera più privata, nonché all'abolizione dell'identità culturale e alla completa sincronizzazione del mondo intero, si tratta ovviamente di un timore giustificato a prima vista e importante da esprimere. Ciò che è essenziale, tuttavia, è che esistono già un'elite e istituzioni transnazionali che tengono in mano i fili essenziali del sistema, assomigliano a una sorta di governo mondiale e fanno valere i loro interessi principalmente attraverso le leggi dei singoli stati. È chiaro che tutto ciò è ben lontano da qualsiasi tipo di democrazia e bisogna riconoscere chiaramente che questo approccio non serve il bene comune globale nel miglior modo possibile. Se guardiamo al sistema globale odierno e lo esaminiamo da una prospettiva teorica di gioco per vedere se può resistere agli istinti più bassi, dobbiamo chiaramente riconoscere che è stato costruito e funziona ancora in modo tale che una piccola elite continua ad arricchirsi in modo sproporzionato e la popolazione generale viene sfruttata oltremisura. Certo, le cose sono cambiate in meglio nel corso della storia, ma se si considerano le cifre globali e le opportunità che la comunità mondiale avrebbe sulla base della modernità, gli obiettivi di sviluppo sostenibile potrebbero essere raggiunti molto più rapidamente. Ora sorge la domanda, come dovremmo procedere per svegliarci in un mondo che sia il più giusto possibile in futuro e, soprattutto, per raggiungere gli obiettivi di sviluppo sostenibile? Naturalmente si potrebbe dare qui una risposta lunga come un libro, ma se si vuole ridurre la questione all'essenziale, si potrebbe dare la seguente risposta. Sulla base di un'espansione del sistema istituzionale attraverso un secondo ordine giuridico globale multilaterale sussidiario sotto forma di un Parlamento mondiale democratico, un Tribunale mondiale internazionale, una forza di polizia internazionale e un'efficace forza armata globale per il mantenimento della pace, si potrebbero gradualmente adottare leggi vincolanti logiche universali globali multifunzionali multilaterali orientate al bene comune e conformi ai diritti umani, trasformando così gradualmente le forme di società prevalenti, capitalismo e comunismo, in un multifunzionalismo globale interattivo a lungo termine. Ciò che è essenziale in questo caso è che ogni ismo nella storia non era conveniente ed era troppo radicalmente concepito e sistematicamente stabilito nella sua forma rispettiva. Se ci orientiamo verso la moderna forma economica dell'economia di mercato ecosociale, è bene integrare gli aspetti positivi di tutti gli ismi in una società e cercare di ottenere una società che stabilisca il maggior numero possibile di leggi e sistemi che portino con sé il massimo grado possibile di multifunzionalità. Le leggi ideali non creano in primo luogo vantaggi significativi per i singoli stati e le singole aziende, ma si concentrano soprattutto sulla creazione di un vantaggio per il maggior numero possibile di persone. Affinché tali leggi possano essere concepite e diventare realtà in futuro, il mondo di domani ha bisogno soprattutto di duemila parlamentari mondiali democratici che pensino in modo sistemico e globale, che affrontino ogni giorno le grandi questioni e i problemi del futuro e cerchino ogni giorno le migliori soluzioni possibili e che, soprattutto, cerchino di integrare le migliori leggi possibili a lungo termine in una legge fondamentale globale che porti con sé il massimo grado possibile di multifunzionalità globale. Ora sorge la domanda legittima. Perché è così difficile istituire un Parlamento mondiale democratico? E, soprattutto, perché non esiste ancora un Parlamento mondiale democratico? Per istituire un Parlamento mondiale democratico, è necessaria un'Assemblea delle Nazioni Unite e una maggioranza di due terzi a favore dell'istituzione di un Parlamento mondiale democratico e il consenso di tutte e cinque le potenze con diritto di veto, ossia Stati Uniti, Russia, Cina, Regno Unito e Francia. Dal punto di vista della Realpolitik, questo è molto difficile da immaginare nella prospettiva odierna, perché se si considera, ad esempio, che la maggioranza dei due terzi di tutti gli stati del mondo voterebbe a favore di varie leggi nel Parlamento mondiale democratico e le cinque potenze detentrici del diritto di veto e gli altri principali paesi industrializzati voterebbero contro, ad esempio, quanto sarebbe probabile che gli stati di tutto il mondo includano effettivamente questo nella loro legislazione. Un Parlamento mondiale democratico avrebbe quindi teoricamente il potere di dettare leggi vincolanti a Joe Biden, Xi Jinping, Vladimir Putin, eccetera. O a un'elite transnazionale, limitandone significativamente il potere. Questo è uno dei motivi principali per cui l'istituzione di un Parlamento mondiale democratico e di una Costituzione globale sussidiaria è stata impedita con successo fino ad oggi. Tuttavia, se vogliamo sviluppare il mondo nel miglior modo possibile in futuro, abbiamo bisogno di queste grandi leggi sussidiarie globali, in modo che il sistema sia dotato della necessaria razionalità di base a livello mondiale. In particolare, dal punto di vista della teoria dei giochi, bisogna rendersi conto che se non c'è un ordine di base globale generale sotto forma di una legge di base sussidiaria globale più ampia possibile basata sui diritti umani, non ci potrà mai essere una funzionalità sostenibile del sistema su piccola scala, cioè in tutti i singoli stati, stati federali, distretti, città e villaggi di tutto il mondo, cosa che l'attuale situazione globale dimostra chiaramente nei fatti quando viene misurata rispetto agli obiettivi di sviluppo sostenibile. L'obiettivo della comunità globale dovrebbe essere quello di istituire un secondo ordinamento giuridico sussidiario sotto forma di Parlamento Mondiale Democratico, Corte di Giustizia Internazionale, Polizia Internazionale e Forze Internazionali di Mantenimento della Pace, in cui il multilateralismo sia fortemente sostenuto e in cui in futuro si cerchi di approvare il maggior numero possibile di leggi sussidiari e globali che servano il maggior numero possibile di persone in modo positivo e soprattutto promuovano il bene comune globale nel miglior modo possibile. Infine, Albert Einstein si è più volte espresso a favore di un Parlamento Mondiale Democratico. Perché lo ha fatto? Perché sperava di ottenere più potere? Denaro o una posizione migliore È più probabile che un fisico si trovi quotidianamente di fronte a sfide complesse e che questo possa portare le persone a riflettere su come un sistema globale creato dall'uomo debba essere organizzato istituzionalmente per ottenere i migliori risultati possibili in futuro, motivo per cui Albert Einstein è probabilmente giunto alla conclusione che un Parlamento Mondiale Democratico è necessario per la comunità globale al fine di creare un mondo il più equo possibile e che permetta al maggior numero possibile di persone di vivere in pace, libertà e autodeterminazione. Per oggi è tutto. Se vi è piaciuto il video, dateci un pollice in su e iscrivetevi al nostro canale. Alla prossima puntata!